Ciao ragazzi, siamo a Triturno, è molto caldo in questa riapertura, il pesce si posiziona immediatamente sotto il ferro dell'acqua, quindi vediamo le continue bollate, riusciamo a vedere anche l'attività del pesce in superficie, c'è un'ottima concentrazione, in questo caso un'arma da poter giocare è sicuramente il Minov, il classico Jack, lo Juan Nano ovviamente di casa Valkane, lo vado a muovere con un essere perché mi dà più contatto, visto che lo vado a muovere sotto il ferro dell'acqua, e lo vado a muovere con una Dyslave 61 GL RevF, una canna da controllo. Vedete che come ho lanciato è partito subito l'attacco. Lauку Lauco Lauco Grazie a tutti. Guarda i gattini d'avecchette. Eccolo qua. Juan Nano, Torai Poliester 04, Daisley Infa 61 GLRF. Ciao ragazzi, buon divertimento.